Slow Fiber è una rete di imprese tessili che non solo esprime e rappresenta quello che è la bellezza del design e della moda italiana, ma vuole ricercare in questa bellezza anche dei cambi valoriali, che per noi sono il buono, il pulito, il giusto, il sano e il durevole. L'idea è quella infatti di ricercare e proporre prodotti e modelli di produzione che siano attenti agli aspetti della chimica, quindi il sano, del saper fare del territorio e della promozione dei territori, il buono, della riduzione dell'impatto ambientale, quindi il pulito, della tutela del lavoro e della promozione dei saperi tradizionali, che è il giusto, e di offrire prodotti che siano durevoli nel tempo. Quindi invitiamo tutte le aziende che quotidianamente incarnano questi valori del sano, del buono, del pulito, giusto e del durevole a unirsi a noi e a sensibilizzare il consumatore finale alla scelta di prodotti che facciano bene al territorio, facciano bene alla società e facciano bene al pianeta.